Eccola qui, torna in pedana perché le toccano due esercizi, l'abbiamo vista con il cerchio e adesso chiuderà il programma di gara della ginnastica Fabriano con il suo esercizio al nastro. Ta-da! 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 No, peccato, peccato perché veramente anche questo è un esercizio molto interessante, tante peccato, un po' tante perdite, come abbiamo già detto il nastro.